Covid-19 in Sicilia, decremento dei casi a 17 decessi, Siracusa e i contagi diminuiscono. Sono 2.931 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 17.500 tamponi processati. Ieri erano 2.825, il tasso di positività è quasi al 16,7% in diminuzione rispetto al 17,4% di ieri. La regione è al quarto posto per contagi, gli attuali positivi sono 150.398 con un decremento di 14.922 casi, i periti sono 17.836 e 17 le vittime che portano il totale dei decessi a 11.792. Nell'ambito ospedaliero i ricoverati sono 861, 16 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 45, 2 in più rispetto a ieri. I dati del contagio registrati a livello provinciale Palermo 677, Catania 617, Messina 496, Agrigento 273, Siracusa 256, Trapani 252, Ragusa 167, Caltanissetta 147, Enna 46. Caltanissetta 147, Grazie.